Buonasera a telegiornale dedicato a Pordenone al Veneto orientale. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi in via Diaz 14 a Chionz nel pomeriggio per un'abitazione andata a fuoco. La stessa abitazione era già stata interessata da un incendio il primo maggio scorso per cause accidentali. La casa, una bifamiliare a tre piani, è stata distrutta completamente dal fuoco che ha all'ambito un immobile adiacente. È stato necessario disporre l'allontanamento di due famiglie, in tutto 11 persone tra cui due immobili interessati dalle fiamme. Nell'operazione di spegnimento sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco di Pordenone e San Vito al tagliamento. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Azzano Decimo. Fortunatamente non ci sono né feriti né intossicati. Il primo cittadino di Chionz si è adoperato per trovare una sistemazione alle persone evacuate. Un incidente stradale oggi sul Meduna, sul ponte che è sul Meduna, ha bloccato la circolazione per diverso tempo. Leggiamo la notizia sul portale dell'informazione di Udinese TV. È successo questa mattina alle 9. Un incidente automobilistico ha bloccato per oltre due ore la viabilità lungo il ponte sul Meduna in via dei Camaldolesi a Pasiano di Pordenone. Secondo la ricostruzione della dinamica effettuata dai carabinieri della stazione di Prata l'Audi A3 condotta da una 28enne di Motta di Levenza proveniente da Pasiano mentre era intenta di imboccare il ponte ha urtato lateralmente la Tesla di un 57enne di Orsago che sopraggiungeva lungo la carreggiata opposta. Le due automobili agganciate sia a livello delle ruote dopo l'impatto sono rimaste bloccate in mezzo allo stretto ponte bloccando completamente il passaggio e danneggiando alcune barre in ferro. Sul posto oltre all'ambulanza è intervenuto anche l'elissoccorso allertato dalla Sores. L'automobilista di Orsago è uscito in l'isola all'impatto mentre per la giovane conducente rimotta di Levenza si è ritenuto necessario effettuare degli accertamenti al pronto soccorso di Pordenone a seguito del trauma facciale riportato per l'attivazione dell'airbag di bordo. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle due vetture e del tratto di strada interessato che a causa della difficoltà di manovra da parte dei pompieri e degli operatori del carro attrezzi ha richiesto circa due ore di lavoro. La regolare viabilità è stata ripristinata poco dopo le ore 11. Questa la situazione con la foto pubblicata dal quotidiano Il Gazzettino sul ponte sul Meduna dopo l'impatto e le due auto agganciate. Dopo quella di Villanova a Pordenone parte la progettazione della casa di riposo di Porcia che sarà in realtà una struttura dedicata alle malattie dementigene e il servizio di Lara Zanni. Via alla progettazione di quella che era stata pensata originariamente come la casa di riposo di Porcia ma che sarà in realtà una struttura dedicata alle malattie dementigene e che si rivolgerà a una platea estesa all'intero territorio provinciale. Durante la progettazione della casa di riposo di Villanova infatti valutando la grande flessibilità e adattabilità di quel progetto l'amministrazione comunale ha ragionato assieme ad Aspu Umberto I e al comune di Pordenone sulla possibilità di adattare quello schema progettuale all'area di Porcia affidandosi allo stesso gruppo di progettazione e accorciando notevolmente i tempi. Intanto è arrivato anche un finanziamento da parte della regione da circa 10 milioni di euro per il progetto di Villanova che ha creato le condizioni per cominciare a pensare a Porcia. A questo si è aggiunta una importante donazione privata. Gli obiettivi della struttura sono stati definiti in modo da poter dare risposta a situazioni di quadri clinici molto compromessi o a persone con problemi dementigeni per sollevare le famiglie in cui vi sia una persona affetta da patologie degenerative che causano grossi problemi all'intero nucleo. È dunque attivo un tavolo permanente fra comune di Pordenone, Porcia e Asp e vi sono interlocuzioni con la regione per il sostegno finanziario al progetto di quello che sarà un polo di riferimento per tutto il territorio dedicato all'Alzheimer e alle malattie dementigene. Quanto ai tempi previsti, lo studio di fattibilità verrà consegnato ai primi di agosto ad Asp e poi andrà in verifica da parte di uno studio esterno. Dopo circa due mesi si darà avvio al progetto definitivo che richiederà circa 120 giorni di sviluppo. La possibile data di avvio del cantiere è il secondo semestre del 2024. Per favorire la massima partecipazione dei cittadini, spiega inoltre il sindaco Marco Sartini, abbiamo chiesto ad Asp di portare in pubbliche assemblee le tematiche oggetto della realizzazione di quest'opera. Orientativamente a ottobre prenderà quindi avvio una fase di condivisione con la comunità del progetto. Inaugurata nella sala espositiva della Biblioteca Civica di Pordenone la mostra del circolo fotografico Riflessi, un viaggio tra sviluppo industriale e ambiente. Claude Stefani. Si chiama Industria l'ultimo lavoro del circolo fotografico Riflessi, terza e ultima parte di una trilogia del cambiamento iniziata con Case Sparse e proseguita con Caligo. Le prime fotografie di questo progetto nascono nel 2018. Come per i precedenti due progetti la direzione artistica è stata affidata a Pierpaolo Mittica, fotografo umanista di fama internazionale. Industria trae libera ispirazione dal libro di Alexander Kay, Conan, il ragazzo del futuro. Nella sua semplicità ed immediatezza questo testo ha avuto il merito di suonare un allarme sul futuro dell'ecosistema Terra. Gli scatti sono idealmente divisi in tre momenti. Le industrie attive, portatrici di ricchezza e lavoro, ma dove è già evidente il segno indelebile sull'ambiente. L'abbandono delle stesse, non più utili al modello economico in continua evoluzione. La natura, infine, che tenta di riprendersi gli spazi rubati dall'uomo produttore. Confusi all'interno di questi tre momenti gli esseri umani, vittime e carnefici allo stesso tempo, testimoni e colpevoli. Potremmo ripensare il nostro modello di sviluppo? Questa è la domanda finale che il visitatore trae dalla visione delle immagini. La mostra sarà visitabile nella sala espositiva della biblioteca di Pordenone fino al 27 agosto. Il lunedì, solo il pomeriggio, tutto il giorno da martedì a sabato, chiuso i festivi. A Cavallino Treporti torna Enjoy the Beach quest'anno con l'obiettivo di lanciare un messaggio di pace. Il servizio di Samantha Segat. La spiaggia di Cavallino Treporti torna protagonista anche quest'estate con un evento dedicato a tematiche sensibili e importanti. Lo scorso anno la prima edizione di Enjoy the Beach Cavallino Treporti a Braccia Aperte, organizzata dal Comune in collaborazione con il Consorzio di Promozione Parco Turistico e Asso Camping, ha proposto un appuntamento aperto a residenti e ospiti per salutare l'estate con un segno di ripartenza e normalità per esecuzione dell'evento 2020 a Braccia Aperte, quando le strutture ricettive del territorio hanno ospitato gratuitamente il personale medico e i loro familiari. Quest'anno Enjoy the Beach si concentra sul tema della pace. Per l'occasione, sui 13 chilometri di arenile, si sono riuniti runners, turisti e residenti per far sentire forte un messaggio di pace, serenità e unione. Enjoy the Beach Running for the Peace è un evento quest'anno organizzato con il tema della pace, una corsa lunga 13 chilometri sulla bellissima spiaggia di Cavallino Treporti, la prima del Veneto, la seconda d'Italia. Il messaggio della pace, abbiamo voluto dare questo messaggio per dire che le guerre non sono il modo per risolvere le controversie, crediamo nella pace e nei diritti delle persone e quindi Cavallino Treporti ha voluto unirsi a tutto il mondo per dire facciamo la pace. 13 chilometri per una corsa che vada a muovere i sentimenti che nella nostra spiaggia ci sono, nella nostra località ci sono, proprio per valorizzare come oggi la nostra comunità vuole la pace, vuole la pace perché è sinonimo di benessere, di star bene con gli altri e non si può star bene a casa propria se non stanno bene anche gli altri, quelli vicino a noi e anche quelli meno vicini e quindi il nostro pensiero va un po' a tutti. Un'ultima notizia che è arrivata poco fa, oggi un intervento da parte del soccorso del 112, richiamato il 112 a Cavasso Nuovo per un arresto cardiocircolatorio che ha colpito un ciclista che è stato rianimato sul posto ed è stato poi ricoverato all'ospedale di Pordenone in codice rosso. Il pronto soccorso era stato preallertato appunto dell'arrivo dalla Sores. È tutto per questa edizione del Tg Pordenone Veneto Orientale, buon proseguimento di serata e nostra compagnia.